Ciao ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video e oggi ho deciso di fare un mi trucco con voi ho deciso di fare questo video perché sono stupo un po' di questo tempo sono ormai diciamo, comunque dato che siamo a ottobre sono entrata nella mentalità dell'autunno ma di autunno ancora c'è ben poco insomma cioè la mattina fa fresco, la sera fa fresco ma in mezzo alla giornata fa caldissimo ancora almeno qui a Roma fa davvero tanto tanto caldo e quindi oggi ho deciso di abbandonare un po' questa idea autunnale di vestirmi con colori un po' più allegri tipo mede dei fucs e blu e di fare un trucco appunto fresco e colorato e so che non è proprio diciamo il trucco autunnale che tutti vi aspettate in questo periodo ma secondo me quando ci sono queste giornate è bene ancora giocare un pochino con i colori e fare dei look diciamo un po' più freschi e colorati e ho provato con voi anche dei prodotti che avevo postato in un video e ancora non avevo avuto modo di provare fatemi sapere se vi piace se vi piace questo look e vi lascio il tutorial a dopo iniziamo subito dalla base questa volta e applico non lo trovavo il fondo dinta minerale che ormai conoscete benissimo della neve Light Cover as Mineral Foundation e lo vado ad applicare con un semplice pennello flat bookie applico un correttore nella zona delle occhiaie e utilizzo l'instant anti-age della Maybelline che ormai sapete che adoro applico un primer su tutta la palpebra mobile e utilizzo la low stage della Essence e sistemo le sopracciglia con la mia solita matita della Benikos la Natural Eyebrow Designer iniziamo il trucco occhi e come ho detto oggi voglio provare con voi due prodottini nuovi che ho dei pupa insomma anche se non è l'ultima collezione e uno è questo ombretto molto molto bello che è il numero 02 della collezione Jeans & Roses Lumina Silk e lo vado ad applicare su tutta quanta la palpebra è un ombretto davvero molto molto luminoso e satinato per dare ancora più luce lo vado ad applicare da bagnato come vedete da bagnato acquista ancora più luminosità insomma e si notano anche di più io non so se voi li vedete i riflessi argenti argenti i riflessi argento che ci sono all'interno dell'ombretto nella piega dell'occhio vado ad applicare il color tattoo della Maybelline il numero 40 permanent top con un pennellino piccolino da sfumatura e lo vado proprio solo per delineare la piega dell'occhio e dalla mia palettina della Kiko questa qui la Street Fashion la 01 Harmonic Swing vado a prelevare il color Tortora il secondo e vado così a fissare l'ombretto e a creare un po' di ombra adesso vado a creare una diga di eyeliner con questo matitone della Pupa e che vi feci vedere in un video haul ed è la prima volta che lo provo anch'io ed è il Long Lasting Eye Style stilo ed è il numero 0,4 ok nella rima interna dell'occhio invece vado ad applicare una matita nera e utilizzo questa qui della B-Chic che ormai avete visto che so per terminare e sotto all'attaccatura delle ciglia vado a ripassare questo matitone verde che vado a sfumare con un pennellino appunto da precisione sempre dalla palettina della Kiko che vi ho fatto vedere prima prendo la parte più chiara questo bianco perlato e la vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare infine applico il mascara e utilizzo Pupa Mamp e questo sarà il risultato finale dell'occhio io non so quanto rendo effettivamente dalla videocamera ma in realtà è davvero un look e un trucco molto carino e fresco per dare anche magari un tocco di colore a queste giornate un po' più autunnali faccio l'altro occhio e torno eccomi qui con entrambi gli occhi fatti mi piace tantissimo questo look ora passiamo al resto del viso applico su tutto quanto il viso una cifra colorata e utilizzo questa qui della moa che è la shade 2 e l'applico con un semplice pennello grande da viso vado ad applicare un bronzer opaco e come sempre utilizzo questa della sun club che è la 01 natural e la vado ad applicare con questo pennello qui come blush ne scelgo uno totalmente opaco rosa ed è questo qui della neve che si ha blush scritto da me perché l'avevo travasato in una full in una già più grande ma in realtà è una mini ed è proprio un bel rosa acceso cucchia lo vado a prelevare con questo pennello e ne prelevo davvero poco perché è molto molto pigmentato quindi sbatto bene il prodotto da un effetto che a me piace tantissimo proprio davvero molto naturale fresco e anche il fatto che sia comunque un bel rosa acceso ma totalmente opaco mi piace moltissimo per quanto riguarda le labbra voglio andare a riprendere gli accessori e quindi vado a contornare e vado intanto ad applicare il pastello della neve e fenicottero ovviamente non leggete e poi sopra ci passerà un rossetto e per farsi insomma che non si secchino troppo le labbra sopra vado a passarci il rossetto essence lo 08 color crush questo è il risultato finale spero che vi piaccia come ho detto anche all'inizio non è diciamo fra i look più autunnali ma visto che qui insomma ci sono ancora delle belle giornate secondo me ci può stare ancora un po' di colore quindi diciamo questo è il look finito e abbastanza fresco e colorato fatemi sapere se vi piace e cosa quale prodotto magari vi ha incuriosito di questi qui di oggi utilizzato con voi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 How many times will you wonder if I still pray?